Possibile avvicinamento alla rivelazione dei segreti da parte di Mirjana e Padre Petar. Guarda questo video fino alla fine perché scoprirai perché potrebbe essere molto, molto vicino. Benvenuti a Preghiere Miracolose, l'epicentro della Chiesa e della fede in Dio. Iscriviti al canale se ami la Vergine di Međugorje per non perdere altri video simili. Mirjana e Padre Petar stanno per affrontare l'argomento. Una possibile data è stata rivelata riguardo all'annuncio completo dei segreti di Međugorje. Cosa stanno custodendo? Di cosa trattano questi segreti? Ma soprattutto, cosa succederà nel mondo? Lasciamo perdere le chiacchiere e cominciamo direttamente. Nel cuore della storia che si sviluppa sullo sfondo di Međugorje, un'atmosfera impregnata di mistero si diffonde nell'aria, avvolgendo il pubblico in un'aura di incertezza che perdura da 42 anni. Il monologo, iniziato dalla Vergine stessa il 24 giugno 1981, rivela una trama intricata di dieci segreti nascosti nel tessuto del messaggio di Međugorje. Sei veggenti, tra cui Vika Ivankovic, Maria Pavlovic, Ivanka Ivankovic, Ivan Dragicevic, Dzekov Kolo e Mirjana Dragicevic, emergono come attori principali di questa rappresentazione celeste. Loro, destinatari di visioni paradisiache, sono i custodi di segreti di cui si susurra potrebbero gettare ombre sul futuro sconosciuto dell'umanità. Il monologo, segnato dal trascorrere degli anni, rivela progressivamente la trama intricata. Tre veggenti, Ivan, Vika e Maria, conoscono nove segreti, mentre gli altri tre, Ivanka, Mirjana e Dzekov, custodiscono la conoscenza completa. Un velo di segreto separa i protagonisti di questo dramma divino, ma si intuisce che la trama è condivisa da tutti. Il palcoscenico diventa il punto di connessione tra il divino e l'umano quando Mirjana, la prima a ricevere tutti i segreti, sceglie il frate francescano padre Petar Liubicic come mezzo attraverso il quale verrà diffuso il messaggio. Il momento della rivelazione si avvicina, invitando il pubblico a guardare al futuro attraverso gli occhi di un frate e una veggente. Il climax della narrazione si trova in un pergamena divina, intessuta direttamente dalle mani della Vergine e gelosamente custodita da Mirjana. Quest'arte sacra sfida qualsiasi analisi terrena, come confermato dal laboratorio di Zagabria. La trama intricata di profezie, moniti e avvertimenti si svela lentamente, catturando l'attenzione del pubblico in un monologo divino che sfida il passare del tempo. Le profezie, divise tra avvertimenti e punizioni, gettano un'ombra non solo su Meggiugorie ma anche sul futuro oltre l'orizzonte. Il terzo segreto, legato a un evento straordinario sulla collina delle apparizioni, si profila come la chiave che dividerà l'umanità. Visibile, indistruttibile, duraturo, bello e di chiaro origine divina, queste parole si proiettano come un'ombra drammatica, creando uno spettacolo di divisione tra gli apostoli dell'amore e coloro che scelgono di rifiutare Cristo. Il monologo raggiunge il suo culmine nei sette segreti rimanenti, le punizioni, non come punizioni divine, ma come conseguenze del libero arbitrio umano. Un settimo segreto, oscuro e grave, agita la protagonista mirgiana, che, attraverso la preghiera e la penitenza, cerca di mitigare la punizione. La stessa vergine interviene in questo dramma divino. Il sipario si chiude con un appello alla fede, alla preghiera e alla conversione, sottolineando che questi segreti non dovrebbero ispirare paura, ma piuttosto alimentare il desiderio quotidiano di cambiamento. La regina della pace aspetta a Meggiugorie, e il pubblico è invitato a prepararsi per l'atto finale di questo enigmatico monologo. Chissà quali altre profezie si sveleranno col tempo. La data potrebbe essere molto vicina perché padre Petare è già molto anziano e solo lui e Mirgiana conoscono questi segreti. Aspettiamo qualsiasi cosa, anche per il 2024 o il 2025. Siamo molto vicini al momento della verità. Cosa pensi possano essere i segreti di cui parlano? Se sei arrivato fin qui nel video, lascia un commento che dica a Madonna, benedicimi. Lascerò un mi piace e un commento sotto il tuo, e inoltre, sarai incluso nelle nostre preghiere. Concludiamo questo affascinante viaggio tra i misteri di Meggiugorie con la consapevolezza che il sipario dell'ignoto si è sollevato solo parzialmente. La storia che si è svelata sul palcoscenico di questo piccolo villaggio bosniaco continua a tessere trame di segreti divini e profezie, mantenendo il pubblico in un limbo di aspettativa e riflessione. Mirgiana e padre Petar, custodi di verità che sfidano il tempo, stanno per aprirsi al mondo, aprendo la porta a una possibile rivelazione dei segreti che hanno impregnato le loro vite. Il palcoscenico si prepara per uno degli atti finali di questo enigmatico monologo, e si invita il pubblico a contemplare ciò che il destino riserva all'umanità. La pergamena divina, intessuta dalle mani stesse della Vergine, diventa l'epicentro di misteri che si insinuano nel tessuto del quotidiano. Profezie, avvertimenti e segreti scritti in questo antico manufatto sono un richiamo alla fede, alla preghiera e alla conversione. La regina della pace aspetta pazientemente a Meggiugorie, e la sua presenza impregna l'atmosfera, invitando coloro che ascoltano a riflettere sul proprio cammino spirituale. Man mano che il sipario si chiude in questo capitolo, la data della possibile rivelazione dei segreti si avvicina. Padre Petar, con la sua anzianità, diventa l'intermediario tra l'occulto e il mondo, aprendo una finestra a verità che potrebbero scuotere le fondamenta stesse della fede. Si invita il pubblico a rimanere in attesa, a scrutare il futuro attraverso gli occhi della fede e della speranza. Quello che si intravede all'orizzonte è una rivelazione totale, un momento in cui i segreti nascosti potrebbero emergere finalmente dall'ombra. Ci congediamo con la consapevolezza che la regina della pace ci aspetta con amore e misericordia. Che il nostro viaggio spirituale sia illuminato dalla luce della fede e che, quando il sipario si alzerà di nuovo, saremo pronti a ricevere ciò che il destino ci ha riservato.